E parliamo di libri, di un libro per chi vuole un pianeta come una serie tv di successo, con un futuro fatto di tante bellissime stagioni. Il libro si intitola La casa di cartone e altre storie di giovani contro la crisi climatica, firmato dalla giornalista e scrittrice Ilaria Beretta. Buongiorno Ilaria, benvenuta. Buongiorno Paola, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Beh oggi 4 ottobre, solennità di San Francesco, Papa Giovanni Paolo II ha proclamato San Francesco patrono dell'ecologia, o meglio dei cultori dell'ecologia, quindi non potevamo oggi non parlare di crisi climatica e di cambiamenti climatici. Allora io partirei subito Ilaria da quello che questo libro non vuole essere. Ok, allora questo libro non è un manuale per perfetti ecologisti, semplicemente perché ce ne sono già moltissimi. Appunto quei libri che creano un po' un decalogo di cose da fare per essere rispettosi dell'ambiente, che spesso sono indirizzati proprio ai ragazzi, no? Perché appunto si pensa che giustamente che la sensibilizzazione debba iniziare da quelle generazioni. Io non ho fatto questo, non ho fatto questo per due motivi. Il primo motivo è che io non sono una divulgatrice scientifica, quindi non sarebbe stato nemmeno il mio mestiere, ecco. Ma sono una giornalista, una giornalista che cerca storie, sono molto appassionata appunto di andare alla ricerca di persone che si sono inventate qualcosa di curioso o di insolito per rispondere a un problema. E quindi ho cercato di usare questo approccio anche in questo libro, anche perché appunto ritengo che non sia sufficiente fare un elenco proprio da manuale, una lista da spuntare per essere con la coscienza a posto. Credo che un po' ecco la lotta, la crisi climatica sia una faccenda che ci debba coinvolgere a tutto tondo, nel lavoro, nella vita di ogni giorno. E quindi ecco, penso che sia anche questa una storia da costruire, non bianca, non nera, non una lista, appunto, una voce in una lista, ma qualcosa di un po' più complesso. E ho provato a raccontare come questi sei giovani stanno facendo, ecco. Esatto, infatti come è scritto in questa stagione ci sono sei storie, l'ultima è intitolata La Casa di Cartone ed è una appunto delle storie che racconti, che poi dà il titolo al libro, si racconta di Nicola, produttore di pareti sostenibili. Appunto, come dicevi prima, una delle motivazioni che ti ha spinto a scrivere questo libro è raccontare storie, sei una giornalista quindi vai alla ricerca di storie, come sei venuta a conoscenza di queste che poi appunto hai riportato nel tuo libro? Alcune appunto le ho incontrate nella mia ordinaria attività, ecco, di ricerca e quindi me le sono messe via e le ho tenute per questo lavoro. Altre invece le ho cercate di proposito, nel senso che ho cercato di fare un ventaglio di professioni molto diverse tra loro, che in qualche modo fossero però legate anche all'ambientalismo. Quindi, per esempio, sono andata a cercare un giovane che fosse un informatico, ma che riuscisse a declinare questa sua specialità, questa sua competenza anche in ottica green. Lo stesso fatto per una ragazza che fa l'illustratrice, un'altra che è un'avvocata. Insomma, lavori molto diversi che però sono riusciti in qualche modo a essere anche in quelle professioni che sarebbero un po' lontane dall'ecologia to cure, sono riusciti invece a interessarsi anche di questo aspetto. E questa è la cosa che più mi ha colpito, per esempio proprio questo ragazzo che fa l'informatico. Io quasi non immaginavo che il digitale, che l'informatica potesse avere un così alto impatto sull'ambiente. E invece lui me l'ha insegnato e mi ha mostrato anche come nel suo lavoro sta provando a fare diversamente. Mi verrebbe da dire, ma so che non è molto televisivo, wow! Ilaria, davvero delle storie che poi gli amici che avranno il piacere di leggere questo libro scopriranno. Come è scritto anche nell'introduzione, un libro di storie vere e possibili, sorprendentemente comuni, che non impongono nulla ma comunque a loro volta suggeriscono, danno suggerimenti utili su come essere un po' più green. Sì, assolutamente. Il libro è rivolto a tutti. Però il mio sguardo è rivolto soprattutto ai ragazzi delle scuole superiori. Non sono certo io che devo insegnargli l'ambientalismo, visto che questi ragazzi sono impegnati in modo veramente meritorio nella lotta alla crisi climatica. Però vorrei cercare di accompagnarli o di dar loro almeno qualche spunto nel momento in cui si ritrovano a dover scegliere l'università oppure il lavoro, quindi alla fine della scuola superiore, in modo tale che possano vedere che effettivamente questo loro impegno non è solo una cosa che deve restare nel tempo libero, ma può effettivamente entrare anche nella loro professione. E se questo è un po' più facile per chi magari vuole fare l'ingegnere, allora può scegliere ingegneria ambientale, è un po' più difficile per chi magari appunto sa disegnare oppure sa scrivere. e quindi delle professioni che sembrerebbero veramente diametralmente opposte all'impegno contro la crisi climatica. Ilaria, per concludere, storie appunto in cui i protagonisti affrontano la crisi climatica con un approccio positivo. Come scrivi poi nell'epilogo il bello della crisi? E' uno simolo, come spieghi questo accostamento? E' possibile parlare di bello e crisi? Ma assolutamente sì, nel senso che da sempre c'è una correlazione tra crisi e soluzione, è una correlazione anche etimologica, perché crino appunto significa in greco riflettere per trovare una soluzione. Come ci ha insegnato d'altronde anche la pandemia da cui siamo reduci, nelle situazioni di difficoltà estrema saltano fuori un sacco di belle storie, comunque di persone che si rimboccano le maniche e che fanno rete per riuscire a superare la difficoltà. Io credo che questa condizione sia un po' obbligatoria per chi oggi ha 20 o 30 anni, nel senso che queste generazioni sono veramente figlie della crisi, prima della crisi economica si sono affacciate nel mondo del lavoro proprio quando scoppiava questa crisi, ora c'è una crisi geopolitica importantissima e appunto la crisi ambientale. Quindi credo che queste generazioni in qualche modo debbano fare i conti con la parola crisi, però non devono farci i conti nel senso di piangersi addosso. È il loro momento storico, è un momento storico difficile, come possono affrontarlo, secondo me è come stanno facendo questi ragazzi, appunto inventandosi qualcosa proprio dal nulla e riuscendo a fare anche delle cose veramente bellissime. Allora Ilaria, io vorrei anche ricordare che ci sono delle illustrazioni molto belle all'interno del tuo libro, vogliamo citare l'autrice? Assolutamente, Ilaria Palleschi è un'illustratrice e un'autrice di graphic novel e ha fatto per me appunto sei disegni correlando queste storie vere con le storie di sei importanti e famosissime serie tv, perché appunto volevamo mostrare che le storie straordinarie non ci sono solo sulle grandi piattaforme di streaming, ma ci sono anche nella vita reale e chiunque può esserne protagonista. Esatto, c'è la casa di cartone, è inutile ricordare a quale serie facciamo riferimento, c'è la regina del diritto climatico, anche questa una serie di una famosa piattaforma di streaming e quindi complimenti per l'accostamento e davvero per la genialità nella scelta di questo modo appunto di raccontare le storie. Grazie a Ilaria Beretta, ricordiamo importantissimo che il libro è edito da Ancora, delle amici dell'Ancora, il libro si intitola La casa di cartone, firmato da Ilaria Beretta che ringraziamo per essere stata nostra ospite questa mattina. Grazie ancora, buon lavoro, perché no, al prossimo libro Ilaria, il prossimo libro di storie. Ciao, buona giornata. Buona giornata. E allora da questo libro molto molto interessante, che vi ricordo un'altra volta, è il titolo La casa di cartone, edito da Ancora, firmato da Ilaria Beretta. Ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità, poi ci collegheremo con Assisi, telefonicamente con Fra Maurizio Placentino, ministro della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, che appunto si trova ad Assisi per un messaggio francescano di pace. Quindi rimanete con noi. Grazie.